Musica Ma Federico, questa penultima partita del Girona com'è andata? Ma tutto è sfumato bene, abbiamo sofferto, soprattutto quando hanno rimontato 2 a 2, ma alla fine è andata bene. L'ultimo secondo poi si va la vittoria. È andata bene, dai. Adesso quarto posto, giusto? Quarto posto in classifica, sì. Prossima ultima sfida, quindi somme di questo campionato? Contro salta a capanna. Ma tutto sommato, essendo stato il primo anno che ci siamo iscritti a questo torneo, è andata abbastanza bene, sì. All'inizio pensavamo che fosse dura, però ci siamo trovati bene anche perché è il primo anno che giochiamo a 7. Abbiamo formato questo gruppo, sì. Arrivate prima 11? Sì, non giocavamo tutti insieme, comunque sì, siamo tutti del quartiere, siamo comunque del quartiere, quinto romano, Milano. Quindi adesso primaverile vi trasferirete di là? Sì, non mi hanno ancora informato, comunque sì, penso che ci scriviamo quinto romano, prendiamo il campo là. Va bene, grazie. Grazie a voi. Alla prossima. Ciao. 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 Ciao.